Fabio Stassi, scrittore con in bocca il sapore del mondo, ogni coincidenza un'anima, il ballo di Sciarlò, la rivincita di Capablanca, non li cito tutti perché sono tanti, tu come ti presenteresti? Ciao, buongiorno, sì, allora mi presenterai forse come un pendolare, un pendolare non soltanto di libri, ma un pendolare in senso letterale, negli ultimi 25 anni ho passato 4 ore al giorno su un treno, che sommati fanno la bellezza di circa 4 anni vissuti interamente dentro un vagone ferroviario. Interamente e anche intensamente però, perché grazie a questi anni, questo tempo vissuto nei treni, siccome ho letto che tu scrivi prevalentemente sui treni, sei appunto uno scrittore pendolare, sono nati tutti i tuoi libri? Il pendolarismo è stata una grande occasione per me e un'opportunità. Il mio tempo, il mio luogo, in realtà io non ho mai avuto uno studio, una scrivania, uno spazio, ma il mio studio è il sedile scomodo di un regionale. Però che offre un punto di vista sicuramente diverso, è in movimento, no? Sì, si sta sempre in movimento e non stai mai in nessun luogo ed è la condizione ideale per cercare di inseguire delle visioni. Quindi è trasformato, possiamo dire, qualcosa che sicuramente non è semplice, perché tu vivi a Viterbo, lavori a Roma, insomma, il tempo appunto in treno e tanto ogni giorno però, insomma, hai trovato il lato poetico e romantico di questa cosa. Meno male, per fortuna per noi, che possiamo leggere i tuoi libri. Ci sono delle controindicazioni. Più di una volta ho saltato la fermata, insomma, mi sono ritrovato dove non dovevo stare. Leggo di te che appunto vivi a Viterbo, lo dicevo prima, lavori a Roma, ma la tua vita e la tua famiglia ha influenze di vario tipo. Sei di origine a Brescia, della Sicilia, tua nonna argentina. Ecco, questo misto e mix di culture e di influenze diverse, che cosa ha dato alla tua carica da scrittore? La mia formazione essenzialmente viene da questa famiglia in cui ho avuto la fortuna di crescere. Era una famiglia molto particolare. Mia nonna era nata a Buenos Aires, mio nonno era nato a Tunisi, ma non l'ho mai conosciuto, avevo bisnonne catalane, un altro nonno, Arbrech, e insomma sangue misto, come lo chiamiamo noi, tutti di origine siciliana. E loro erano dei grandissimi narratori orali. E io sono cresciuto al culto del racconto, della parola e della memoria. Mia nonna, quando era Natale e quando, oppure durante le feste, anche a Pasqua, apparecchiava questa lunga tavola, eravamo in tanti, anche per quelli che erano rimasti lontani, vivevano lontano da casa. Lei non diceva gli emigranti, diceva i desterrati. Noi siamo desterrati, quindi avevamo parenti a New York, parenti nel Nuovo Messico, parenti in Sud America, a Montevideo e anche perfino in Australia. E ogni tanto arrivavano queste telefonate. A Natale si apparecchiava anche per loro, gli si riempiva il bicchiere di vino e si raccontavano le loro storie. Quindi questo racconto poi ti è rimasto dentro e hai continuato appunto a farlo anche per gli altri, ad offrirlo anche agli altri in qualche modo. Nel tuo ultimo libro, con in bocca il sapore del mondo, nell'introduzione tu dici La vita dei poeti somiglia a quella delle farfalle. Hanno gli stessi traffici con l'effimero, la solitudine e la bellezza. Questo è un libro che parla di poesia, perché tu fai rivivere dieci poeti, tra i più grandi del Novecento, e appunto li paragoni un po' alle farfalle, questi traffici con l'effimero. Io credo che i poeti abbiano molto in comune con le farfalle, un po' perché come le farfalle hanno a che fare con la bellezza, ma anche con l'effimero, con la brevità, con la fragilità. Le loro vite, Roberto Bolagno diceva che le vite dei poeti sono smisurate e rischiose. Ed è vero, anche quelle nelle quali non accade nulla o accade poco, sono piene di tensione. Perché un poeta, quando è davvero un poeta, un grande poeta, in ogni verso si gioca, per lui è una questione di vita o di morte, o si gioca anche la ragione, è sempre sul limite dell'insania, della follia. E io volevo semplicemente raccontare il volo di questi poeti, la loro esistenza terrena e come se fossero, appunto, delle farfalle. E ho scoperto che forse raccontare la vita di uno scrittore è un modo per avvicinarsi alla sua opera, è un'entrata semplice, ma sicuramente molto coinvolgente, perché in fondo è sempre alla vita che bisogna ritornare. Tu prima hai detto, raccontando un po', spiegando un po' questo paragone, appunto, con le farfalle, si giocano la ragione. E in effetti, leggendo questo libro, ma in generale anche pensando a grandi artisti, quindi non solo ai poeti, la follia sembra essere un po' un tratto comune a tanti. Allora, io mi sono chiesta, ma la follia è una conseguenza della poesia o è una condizione necessaria per essere poeti, per essere artisti? Mi viene in mente un poeta nicaragüense del primo novecento che veniva spesso chiuso in un ospedale, in un nosocomio e riusciva a scrivere soltanto quando dentro al manicomio, non fuori. È una condizione. Ho un amico scrittore messicano che mi diceva la letteratura, la poesia è la infermedad, è la follia, è il dissociarsi dalla realtà, è il prendere atto e misura della spaventosa inconciliabilità che si ha con il mondo reale. E quindi si è sempre a un metro dalla follia. Si rinuncia a vivere, si dedica tutto il tempo a cesellare, a lavorare le parole, cercando la loro posizione esatta, cercando il suono giusto. E è come se questa fosse l'azione più importante del mondo, come se davvero l'asse terrestre potesse essere spostato da un errore di grammatica, da una sillaba sbagliata. Poi arriveremo anche a questo, all'importanza delle parole che oggi insomma diventa complicato riuscire a mantenerle, a mantenere questa consapevolezza. Ma prima, sempre a proposito di quello che stavamo dicendo, ovvero appunto della follia, comunque anche dell'inquietudine, della solitudine che vivono tanti poeti, tu apri e chiudi il tuo libro con Dino Campana e Alda Merini, entrambi grandissimi poeti che entrambi sono stati rinchiusi per diverso tempo della loro vita in manicomio. Vorrei leggere un passaggio che appunto tratto da questo libro con in bocca il sapore del mondo, quando tu a Dino Campana affidi questa riflessione. Viene nuovamente rinchiuso in manicomio, dopo anni comunque guarisce, e tu lo racconti così. Nel regno delle ombre c'ero già sceso come Orfeo, tante volte non ebbi paura. Divenni Dino Edison una scintilla elettrica perduta nel magnetismo universale, un piccolo bagliore isolato. Tutto andò per il meglio nel peggiore dei mondi possibili. Mi calmai, mi trasformai in un paziente modello, mi appoggiavo solo ai muri per leggere e in cucina davo una mano a impastare polpette. Nella mia testa sposai centinaia di donne, riandai in America, ma da quel parco non uscì mai più, né scrissi più un verso. Volete sapere come finì? In un modo quasi comico, quando tutti dicevano che ero un uomo guarito, una quindicina di anni dopo, mi presi un'infezione agli inguini, cercando di scavalcare un filo spinato. Non è questo forse quello che cercano di fare i poeti? di scavalcare i fili spinati? Ci aiuti a capire meglio questa immagine? Questa storia di Dino Campana è una storia bellissima. Lui, dopo 15 o 18 anni, che era stato rinchiuso al manicomio di Castelpulci, era quasi rinservito, era stato considerato ormai guarito, ma due settimane prima di essere dimesso tenta la fuga. E questa cosa mi ha sempre colpito perché un poeta non si rassegna. Un poeta ci insegna che la letteratura, la poesia è sempre una ricerca di libertà. La ribellione si impara leggendo, dicono gli spagnoli. Ed è proprio così. Noi ci fermiamo solo qualche minuto e poi ritorniamo ancora qui. E ritorniamo in compagnia di Fabio Stassi. Stiamo parlando di poesia, stiamo parlando della straordinaria vita di tanti poeti, di quello che li accomuna. Tu li hai raccolti, ne hai raccolti dieci nel tuo libro Con in bocca il sapore del mondo che tra l'altro nasce in realtà da una trasmissione televisiva. Cioè, prima la poesia in tv, tra l'altro, come dire, impresa quasi eroica, mi verrebbe da dire, e poi il libro, no? È stata una scommessa. Io ricevetti una telefonata da Minimum Fax Media che mi propose di scrivere per la televisione, cosa che non avevo mai fatto, non avevo idea. In più, un programma dei documentari su dei poeti. Io pensai, appunto, abbiamo parlato di follia, che i primi folli e i primi pazzi erano loro. Ma loro ci credettero moltissimo e io ci pensai due, tre giorni e gli proposi di fare parlare questi poeti dopo morti, di restituirgli in qualche modo la voce perché sono convinto che noi la voce dei grandi poeti del Novecento non la sentiamo più, non ci arriva più, si è persa da qualche parte nel transitare da un secolo a un millennio nella valigia che abbiamo fatto ci siamo dimenticati di inserire dentro la poesia che invece ci aveva accompagnato per 3.000 anni, 4.000 anni. E quindi ho detto facciamoli parlare dopo morti. Benissimo. Allora siamo andati a parlare con il direttore di Re 5. L'idea è piaciuta, ho provato a scrivere il primo che era Ungaretti e quindi l'ho immaginato, a me serviva immaginare questi poeti in un luogo e anche immaginare alcuni oggetti che potessero raccontarli. Per Ungaretti ho pensato alla sedia dalla quale lui parlava, introduceva l'Odissea quando io ero bambino e sentivo questo vecchio con questa voce cavernosa che sembrava veramente la voce di Omero e ho cercato di farlo parlare con quella voce e di fargli raccontare la sua che ha una vita strabiliante nato ad Alessandria d'Egitto fino a 24 anni non viene in Italia ha degli amici anarchici la baracca rossa poi arriva in Italia c'è la guerra la trincea scrive queste poesie ma non le scrive per farsi leggere scrive dove capita sul retro delle cartoline sugli angoli della poca carta che riesce a ottenere e li conserva in un tascapane e queste poesie poi sarà Renato Serra a salvarle in qualche modo e poi poi diverranno il porto sepolto e poi Ungaretti andrà in Sud America a insegnare letteratura italiana ha una vita piena di 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 viaggi di cieli diversi di esperienze diverse e come lui dice appunto io ho tanto amato tanto tanto ho tanto sbagliato ma non ho mai odiato non ho mai odiato nessuno Aldamerini diceva i poeti lavorano di notte e tu dici che continuano a lavorare di notte abbiamo dimenticato la poesia in questi tempi però tu addirittura affidi alla poesia un compito altissimo ovvero quello di proteggere l'umanità i poeti sono animali notturni senz'altro proteggere l'umanità perché loro proteggono e custodiscono le parole se ne prendono cura io credo che loro non sentivamo più la loro voce perché in qualche modo le loro parole erano malandrate erano come delle scarpe bucate non riuscivano più bisognava bisogna rimettersi con molta pazienza e con il lavoro umile di un artigiano a risuolare le parole le parole sono davvero importanti la lingua che usiamo è se riusciamo a nominare un sentimento noi possediamo quel sentimento e siamo in grado di provarlo se perdiamo il modo di di chiamarlo in qualche modo non non riusciremo neanche più a provarlo e la lingua che si usa adesso è una lingua sicuramente impoverita sciatta quanto soffri tu in questi tempi quando senti straparlare quando senti come dire pronunciare delle parole anche senza magari ricapirne l'importanza tu dici che bisogna prendersene cura delle parole ma come si fa io soffro sempre soffro anche adesso che parlo perché vorrei parlare meglio vorrei usare le parole giuste perché abbiamo questa questo io sento questa necessità di 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 esattezza di anche di le parole sono piene di sfumature la lingua italiana è come il come il vestito di Arlecchino è pieno di abbiamo una lingua meravigliosa piena di di migliaia di colori diversi e dovremmo sempre cercare altrimenti diventeremo daltonici o afasici e questo anche nei sentimenti e questo non deve accadere tu parli anche di uno sguardo dei dei poeti no? e dici metti in guardia in qualche modo se si perde questo sguardo cioè lo sguardo dei dei poeti non sapremo più leggere il mondo e di conseguenza tutto quello che ci capita qual è questo sguardo dei poeti com'è lo sguardo dei poeti? lo sguardo dei poeti è uno sguardo di scorcio ma è uno sguardo che ha non è soltanto uno sguardo non è non riguarda soltanto gli occhi ma anche le orecchie direi quasi che per scrivere i poeti devono essere ciechi in qualche modo ma guardare con le orecchie cioè ascoltare bene le parole le voci delle persone quello che le voci nascondono o trattengono e credere ciecamente nella musicalità delle persone degli esseri umani e ridare anche alla musica un non potremmo vivere senza musica così come non possiamo vivere senza poesie hai curato l'edizione italiana di curarsi con i libri rimedi letterari per ogni malanno nel tuo libro ogni coincidenza ha un'anima il protagonista è un biblioterapeuta questo per dire che i libri curano possono curare la lettura la letteratura può curare la letteratura può curare la prima biblioteca dell'antichità innanzitutto che cosa cura che cosa potrebbe curare curare già la nevrosi degli stessi lettori o di chi scrive perché naturalmente è prima di essere cura è anche malattia ma i libri sono un'occasione unica quasi irripetibile di mettere in contatto le persone e di riuscire a a far esprimere a a chiunque i propri malesseri individuarli meglio leggerli meglio ho degli amici in in Sardegna che di Liberos che mi hanno organizzato una volta che sono andato lì un pronto soccorso letterario a Cagliari in cui mi hanno dato un camice da indossare e la gente si è messa in fila e io avevo un ricettario dovevo a ciascuno assegnare un libro prescrivere prescrivere un libro un romanzo un libro di poesie ed è stato abbiamo cominciato il pomeriggio e la notte eravamo ancora lì e avevano fatto anche il codice triage i colori a seconda se i malesseri fossero di natura amorosa di salute di lavoro di familiare e e ho riscontrato però che è stata una cosa molto seria molto bella in cui tutti avevano un gran bisogno di parlare e parlando di libri questo aiutava a raccontare ciò che non andava poi è successo questa specie di miracolo che per una settimana i librai di Cagliari mi hanno telefonato chiedendomi ma come hai fatto perché qui viene gente che chiede dei libri che non siamo riusciti a vendere in dieci anni e invece con la tua ricetta i libri sono pretesti per i gruppi di lettura fanno bene fa bene parlare di libri fa bene leggere come azione solitaria e di concentrazione e poi condividere condividere l'entusiasmo di avere scoperto uno scrittore avere questa anche esuberanza verso la letteratura che un po' si è persa i libri non vanno rilegati nei musei non sono appunto i poeti parlano anche dopo morti noi ringraziamo te intanto Fabio per aver condiviso con noi parte del tuo tempo per averci regalato queste parole davvero preziose e chiuderei abbiamo un solo minuto vorrei chiudere con una poesia tra tutti io ho scelto Alda Merini che è la mia preferita e vorrei affidare a te il compito di leggere e di chiudere con questa poesia bene ci provo i poeti lavorano di notte quando il tempo non urge su di loro quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore i poeti lavorano nel buio come falchi notturni o dusignoli dal dolcissimo canto e temono di offendere il Dio ma i poeti nel loro silenzio fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle grazie Fabio Stassi grazie per essere stato qui con noi grazie grazie a tutti